A Caulonia, il professionista della bellezza al vostro fianco, Dorinas Beauty Center esalta la bellezza in un ambiente accogliente e solare, con i migliori trattamenti professionali viso e corpo e consulenze dietetiche con la dottoressa Cavallaro. Lasciati sedurre dalla voglia di stare bene, Dorinas Beauty Center e a Caulonia in via provinciale Palazzo Bottari, telefono 0964 82 71 7.